Tailandia, alberbo royal a 5 stelle, genuflessa, mani congiunte, la bellissima donna tailandese, alzando lo sguardo mi osserva, occhi neri, viso perfetto, lieve sorriso, stupendo corpo, gambe lunghe e perfette, mi chiede in italiano cosa consumo, cocktail del benvenuto o liquori locali, il cuore batte forte, so cosa vorrei consumare, grazie.